Namaste, io sono Einstein Brave e bentornato in un altro episodio sull'Indiebox Indiebox è un servizio mensile che vi manda a casa uno di questi pacchi con una collezione, una edizione da collezione di un gioco indie e io sono appunto ambasciatore di questo servizio perché è fantastico, lo trovo fantastico qua dietro vedete la mia collezione di giochi che abbiamo sistemato, abbiamo aperto finora con anche Axion Verge che è qua sopra ma non ci sta in questo buco quindi dovrò mettere una mensola apposita perché sono veramente fighissime da esposizione se volete partecipare a Indiebox trovate il link qua sotto in descrizione io essendo ambasciatore mi prendo una percentuale quindi se volete supportare il canale avete un link e un modo per farlo in cui date dei soldi ma ci guadagnate anche un bel po' oggi apriamo il pacco di maggio 2016 che è un pacco molto interessante, è un pacco verde questa volta quindi vuol dire che qua dentro c'è una key, oltre che darò appunto a voi mentre appunto io mi tengo la USB, questo è un altro gioco con USB apriamolo pure e scopriamo che cos'è Dust, è nell'Elysian Tale Dust è un gioco molto 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 interessante, fatto da una persona sola è uscito nel 2012 se non mi ricordo male su Xbox Live Arcade e poi è stata fatta una conversione PC forse la miglior conversione PC che abbia mai visto di un gioco da appunto console con un sacco di opzioni ed è veramente figo il bello è che è fatto da una persona sola che sia programmatore che grafico cosa che raramente si trova in una persona sola e la grafica è molto molto interessante perché ha inventato un mondo in cui noi siamo un personaggio che è questo personaggino che vedete qua dietro e anche qua davanti con una spada che va in giro ed è un action platformer abbastanza interessante quindi vi consiglio sicuramente di andarlo a vedere confezione particolare perché questa volta abbiamo la pagina d'apertura con un po' di storia qua dentro quindi interessante, vedete lo stile anche grafico qua dentro e vediamo di aprirlo tra l'altro appunto queste confezioni hanno dentro il riassunto di cosa trovate in questo caso sono nove pezzi da trovare oltre al fatto che per un po' di tempo sono uscite queste carte che andiamo ad aprire sono carte abbastanza solo da collezionista con un po' di personaggi insomma che hanno fatto parte di Indiebox nel corso della storia quindi lo apriamo velocissimamente e abbiamo, fatemi vedere, un pezzo di questo abbiamo Dust, abbiamo il tipo di Rogue Legacy abbiamo Move di Night Squad e abbiamo Rusty di Steamward Dig tutte carte appunto collezionabili che vedono protagonisti i vari personaggi che hanno fatto parte appunto di Indiebox nei vari giochi nei vari mesi con le uscite allora che cosa abbiamo? abbiamo un plushy, un bellissimo portachiavi con uno dei personaggi probabilmente questo è il compagno del protagonista poi che cosa? anzi lo mettiamo qua, scusate aiuto e intanto vi faccio vedere anche bam! qua dentro, qua dentro c'è la key se volete scaricarla per Steam del gioco quindi chi è arrivato primo complimenti e me lo scrive qua sotto nei commenti anche tra l'altro abbiamo una bellissima certificato di autenticità un documento con una bellissima immagine firmata appunto dall'autore ce ne sono solo 5000 e io ho una di queste quindi è un oggetto da collezione niente male e il bello appunto di questo è che effettivamente nel tempo aumenta parecchio di valore poi abbiamo un questa la apriamo e che cos'è? è una guardate che bello uuuuh che figata è fatta in tela questa è una tela di uno sfondo di dust quindi fantastico e vedete che come sia stato bravo l'autore del gioco a creare queste cose poi abbiamo il manuale di istruzioni eccolo qui abbiamo la scritta Indiebox lo sticker di Indiebox fatto apposta per questo gioco abbiamo lo sticker invece di dust con il logo abbiamo la soundtrack in due cd un'altra soundtrack fantastica che è fatta da non è fatta da creatore del gioco ma è fatta da Hyperduck e Hyperduck è uno molto molto famoso per aver fatto sempre giochi Indie aver fatto dei BGM background music molto molto interessanti e poi abbiamo il gioco stesso che viene in chiavetta e forse una delle ultime chiavette in questo caso abbiamo la spada molto bella da vedere molto funzionale purtroppo la mia è un po' rotta purtroppo ed è il motivo appunto per cui sono passati a cd perché queste chiavette qua ve l'ho detto anche l'altra volta mi avete un po' commentato questa cosa queste chiavette intanto non sono riscrivibili c'è semplicemente il gioco dentro non potete fare niente con quello che c'è ma la qualità di queste chiavette non è stata grandissima si è voluto passare ai cd con delle confezioni che non sono semplicemente queste qua in cartone ma sono delle vere e proprie steelbook o similare quindi una collezione ancora di più se non volete avere insomma l'hanno fatto soprattutto per chi non vuole avere questo da esposizione c'ha il cd da esposizione perché risparmi un pochino di spazio grazie ancora della visione questo era Dust molto molto bello io ve lo consiglio è un bellissimo gioco e ci vediamo settimana prossima con un altro indie box fino a esaurimento appunto dell'indie box attuale io sono Heath Braid namaste Heath Braid grazie a tutti